Ciao amici, cosa dire quando sento la prova di cotale tolleranza cristiana? Sentiamo un po' cosa ha da dire la nostra amica a voi. Cosa ne pensa lei delle coppie omosessuali? Che vanno atterrate, annientate, perché la famiglia esiste da quando esiste Cristo e sino dall'Antico Testamento. Quindi viva la famiglia, abbassa i gay. Mio Dio, questa donna mi fa veramente paura, cioè annientare. Ma sai cosa vuol dire annientare? Poi quante persone dovrebbero annientare? Ma ho letto io male o c'era questa idea dell'ama il prossimo tuo come te stesso? Invece se una persona è gay bisogna annientarla. Cioè praticamente facciamo come in Arabia Saudita la decapitiamo. Perché ho letto, non so se sia vero, ma ho letto che in Arabia Saudita trascinano il gay in piazza, c'è il boia che urla qualcosa tipo alla è grande. Dopodiché prende una spada e gli taglia la testa. Poi volevo solo dire una cosa, se nel caso volesse anche uccidere le persone che sono tipo delle streghe, perché io sarei la prima, non lo so, che cosa ti passa per la testa e che cosa ti hanno mai fatto i gay? E soprattutto siamo sicuri che tu non sei lesbica, hai avuto una delusione, sei entrata in chiesa e sei diventata così tanto intollerante. Queste sono le prime cose che mi vengono in mente. Questo video sarà montato prima o poi, non so quando, ma nel frattempo io vi lascio con queste mie idee. Ovviamente cercherò di farmi pubblicità in tutti i gruppi anticlericali, perché io non ho mai detto di fare le cose a gratis, a gratis. Niente, una cosa che vorrevo sottolineare è che non ho la pretesa di essere una figona, perché non lo sono. Quindi io propongo dei miei dubbi e non capisco gli insulti che mi arrivano spesso. Ah, tu sei brutta, eccetera. Ma non è la pretesa né la volontà di questo canale. Io non faccio la modella, non ho mai preteso di fare la modella. E quindi, questi tipi di insulti, più che altro, non è che mi offendono, ma mi vien da chiedere ma tu hai capito quello che voglio fare io? Cioè, io mi occupo di altro e nel frattempo incrocio le dita per il mio futuro. Spero di avere un sacco di culo e pazienza. Se non sono perfetto, non lo sono mai stata, figuriamoci adesso. Comunque ragazzi, io vi saluto, vi mando un bacio. Ciao e alla prossima.